cena da amici si incontrano parlano per tutta la sera si scambiano i numeri cominciano a uscire frequentazione fidanzamento casa cane bambino matrimonio cacca del cane cacca del bambino è il tuo turno portar fuori la spazzatura bollette litigi amante divorzio fine a poi ci sono io che di tutto questo elenco forse ho sfiorato l'ottavo passaggio per me fidanzamento convivenza ti lascio un'altra è il tuo anno coronavirus lockdown lo sapevo che dovevo comprarmi un cane almeno potevo portarlo fuori a pisciare sotto casa niente da fare mi chiamo vanda lei ha congiunti no tromba amici nemmeno dildo sì mi piacerebbe spedizioni interrotte solo beni di prima necessità